Romics, anno 1900-2016. Un assalitore misterioso ha assalito un giocatore ciccione 89. Spostiamoci il giorno prima. Mario era con la sua fidanzata. Faceva delle cose molto illegali e quindi la madre della fidanzata di Mario li scoprì. E cacciò via Mario. Mario disse tra sese, tanto ho un sacco di soldi, posso prendermi ville, hotel e un sacco di cose belle. Poi si dimenticò che spese tutti i soldi per comprarsi le magliette degli Slayers. Mario si recò in un parco, incontrò un barbone e decise di dormire con lui. Appena provava ad addormentarsi, arrivò una tempesta gigantesca. Quindi si incazzò talmente tanto che prese il panino con la Nutella e lo scaraventò al primo giocatore ciccione che trovò. E quindi è stato Mario, il vero assalitore che assalì. Giocatore ciccione 89, il giocatore ciccione 89 pianse per noi e Mario fuggì all'orizzonte. Grazie Mario, grazie della tua comprensione. E comunque rimani più nudo del solito. Fine.